Non avete valvole di sfogo? Non riuscite a vedere gli europei perché le donne vi parlano sempre? Portatele all'Iper, portatele all'Iper a fare un giro, Dio Cristo, con l'aria condizionata e tutto, così si rinfrescano e poi dopo noi uomini possiamo guardare sul rotto umano, sul divano, le nostre partite fino a incoglionirci, fin quanto ci pare, ci vogliamo incoglionire come si deve, sì, e allora ci vorremmo incoglionire. Vedete tutti i 64 match degli europei, tutte le olimpiadi, tutto il campionato, tutte le partite. Allora portatela una volta alla settimana all'Ipercop, dove vi pare, Fenza, Ravenna, va bene. Questo puntato di scherzino è andato in onda grazie al pneumatico Fiat Hachat perché ci ha l'alito pesante, sono gomme da masticare oppure gomme da mettere nelle biciclettine dei vostri piccoli. Attenzione che forno subito, essendo gomme Fiat Hachat, veniteli a trovare da noi, in via Crecazzo 189, qui in zona, qui, qui in zona.